La riapertura della conca di navigazione di Cremona, prevista per il 3 di luglio, è slittata al 7 agosto. I lavori di manutenzione erano cominciati a inizio anno per installare dei cilindri al posto delle funi che permettevano di sollevare le imponenti porte che consentono l'ingresso alle navi. I lavori sono iniziati a gennaio, diciamo gennaio-febbraio, con la chiusura proprio della conca al traffico in quanto abbiamo dovuto smontare gli impianti a funi, perché questa conca è composta da due porte che vengono sollevate, due porte da 10 tonnellate ciascuna, vengono sollevate con un impianto a funi. Abbiamo sostituito l'impianto a funi con un impianto invece oliodinamico, infatti si vedono i cilindri. Questo sistema ci permette di avere molta più efficienza nella gestione della conca, evitare uno stress alle parti meccaniche che il sistema funi purtroppo era diventato ormai quasi insostenibile e che oltretutto ci dava anche spesso dei fuori servizio. La parte più complicata dei lavori è stata completata nei tempi previsti. L'intoppo è dovuto alle difficoltà di approvvigionamento di componenti elettriche ed elettroniche. La parte più delicata del lavoro, che è la posa dei sistemi, dei cilindri e di tutta la parte meccanica, è stata fatta anche nei tempi. Purtroppo abbiamo avuto un ritardo nelle forniture della parte elettrica, che è il sistema di comando della parte meccanica. Il porto di Cremona è uno snodo fondamentale in Lombardia per il trasporto di carichi eccezionali. Non è un traffico frequentissimo, però occorre dire che ognuno di quei carichi normalmente è un carico che rappresenta delle commesse di grande valore economico e peraltro in certi casi sono indispensabili questi carichi eccezionali per la manufatturiera lombarda, sia in entrata che in uscita. Tutti carichi che su strada non possono viaggiare, quindi il fiume e il porto diventano indispensabili per poter fornire questo tipo di servizio a una regione come Lombardia, che di questi carichi ne fa tanti in un anno.